Guaioli, cellepaste... Ciao! Guaioli, cellepaste... Che sia un tento? Vedo l'ora si sette per andare a vedere Toscana Marima Mayala Live. Oh, o quando lo fanno? Non lo sappiamo mia. Oh, o comunque tu lo sai. Agliana, alla festa della birra, amici miei. Ma l'ingresso è a pagamento oppure bisogna... Ingresso gratuito. Senti, puoi fanno da mangiare loro? E la pizza la fanno spettacolare. Ah, buono, allora buono. Allora si mangia lì, scusa, si fissa. Andiamo, ora si mangia lì. Cazzo, lo devi a tutti. Ai pal copertini, ma poi ci sta da dieci, la birra buona si vede, si fa una bevota. Tu vede essere che bando, c'è il piano di ciale, coso, c'è il piano di ciale, ammazzi. Te lo dico io. Io ci vuo, io ci vuo perché ci si diverte. Mega schermo, gigante, tu vedessi il lavoro. Intanto mi lavo denti perché se ci fossi la pomicia con qualche ciale... No, ma io ai pal copertini c'ho paura, c'è il papero fordo, mi rincorre. Si, gli hanno tra il collo, ci hanno fatto le fappardelle, tu sentissi, ci fanno le fappardelle la sera. Tieni, lavati i denti, ti puzzi il fiato, cipolla, tu trovi una ciale che gli dici? Ti posso cominciare che ti puzzi il fiato, che te... D'aglio, bisogna mangiarlo pochino, capito? Troppo aglio tu ci metti, vai, forza, capito? Poi tu fa la fappardella, non ti si avvicinano neanche i cani, capito? Nel mio peatro. Tieni, spazzola e niente per... Agliana, 7 luglio 2018, festa della birra, amici miei. Ottava edizione, pressi da copertini e ingresso gratuito, osso, e si mangia da 10. Grazie. Grazie. Grazie.